Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, un nuovo video, vlog, perché che riccio? Tutto ok? Allora, bene, questo è un video appunto per parlare un po' con voi e mi sono messa di fronte alla finestra che ovviamente è chiusa, è chiusa perché c'è un sole allucinante che fa troppo caldo, ma mi sono messa all'ombra, però c'è la luce della mia stanza accesa perché sennò veramente era troppo buio e non va bene. Comunque, nulla. Per dirvi a tutti voi, e a tutti voi soprattutto perché ci sono anche maschi all'ascolto, che mi sono voluta mettere qua sulla finestra perché è più comodo e anche perché c'è più, come si può dire, c'è più, come si può dire, Sì, c'è più ombra, quindi ci sta meglio tutto lì, meno male questo pezzo, se riesco a lo taglio, non lo so, vediamo, perché nell'editing sono una capra, come dice Vittoria Scarbi, sono una capra. Nell'editing, prima ero brava, adesso sono peggiorata, ultimamente con l'editing faccio veramente, non dico pietà, ma per non essere volgare, non mi piace come edito i video, cioè io i video manco li guardo, perché è la verità, neanche li guardo i video, cioè i miei video, parlo quando vado a montare i video, li metto, aggiusto l'audio, ma non faccio altro niente, mi li guardo un po' e poi però smetto e li salvo e li pubblico, cioè li carico e li pubblico, così non va bene per niente. In effetti mi sto accorgendo che ho poche visualizzazioni, è della verità, perché è vero, sono poche, ma almeno sono buone, vabbè, no commenti, possiamo perdere il discorso, sono poche perché, uno, non li guardo per niente i video, quando li devo montare, e due, me ne frego, quindi ecco perché ho poche visualizzazioni, dovrei tagliare tutti, vabbè, tutti gli errori che faccio, ovviamente, e nulla, quindi ecco perché ogni volta non ho chiaro l'idea di come tagliare i video, e faccio tutto un casino, già, comunque a parte questo, parliamo di altro e meglio, come è andata la giornata mia di oggi, è andata piuttosto bene, lasciamo vedere dove sono andata, perché tanto ormai lo sapete, sono andata in palestra, perché la palestra è l'unica cosa che mi fa sbagare, non è solo YouTube, quindi anche la palestra mi fa sbagare, quindi e via e vai, finalmente, ho trovato un punto di ristoro, oltre al divertimento su YouTube, mi piace andare in palestra, cosa che prima non facevo spesso, cioè, fino all'epoca adolescenziale, cioè, quando ero adolescente andavo adolescenziale, vabbè, come parlo, non lo so, quando andavo in palestra, ero più, non lo so, forse più, non so come descrivere il fatto della mia adolescenza, forse ero più estroversa, cosa che non sono più adesso, cosa vuol dire estroversa, ero più aperta, adesso mi sono un po' chiusa più in me stessa, non capisco perché, sarà che da quando vi è stata la pandemia, il covid e tutte queste robe così, io non sono più riuscita ad aprirmi di più agli altri, e quindi ecco il risultato, ma adesso, vabbè, per un futuro la sto frequentando dalle persone buone, ancora più coraggiosi di me, che mi aiutano un po' a sfogarmi, poi in più ho trovato un taccuino in cui scrivere le mie idee, scrivere le mie idee, penna e taccuino, e da lì scrivo tutto, tutte le mie idee, tutta la mia giornata, le mie cose, è poco quello che scrivo, quello che scrivo, però a me non scrivo quello che penso, quello che mi lamenti, i miei stati di anima, le mie cose, e penso che mi sto trovando abbastanza bene, sì, è vero, con la testa del telefono faccio ben poco perché, mi sono un po', come si può dire, mi sono un po' persa con la testa del telefono, perché non so più scrivere bene con la testa del telefono, adesso mi sto più abituando al penna e taccuino, infatti sto cercando di scrivere un po' meglio, quando vado a scrivere sul quaderno con la penna, quindi, yeah, e vai top, fantastico, sì, con la testa del telefono vedrete cosa c'entra, c'entra perché c'ho le mani un po' ricotta, quando vado a scrivere sul telefono mi fa come se avessi il T9, quando poi non ce l'ho il T9 sul telefono, avete i vostri ricordi nella vostra memoria del telefono che avevano il T9, ecco, il T9 nel mio telefono non c'è, però solo io che ho le mani che non riesco più a scrivere con la sua testiera, boh, sarà perché mi sto abituando di più al taccuino e alla penna, non ne ho idea, però, niente, allora, dunque, nei prossimi giorni forse riuscirò a fare un video ASMR, perché so che mi piacciono tanto, ah, PS, PS, se sentite scricchiolare è la mia sedia, perché l'altra sedia, non so se la vedete, no, non si vede, no, vabbè, comunque dietro di me è la sedia quell'altra che non fa nessun scricchiolio, questa è una sedia molto antica, è una sedia di quelle proprio, mmm, sarde, antiche, e fa lo scricchiolio che non so se si sente, però, adesso perché mi sono, forse perché è un po' troppo in movimento, devo cercare di stare un po' più fermo quando sto, vabbè, registrando in ogni caso, quindi, vabbè, no comment, che vi stava a dire? non mi ricordo più, ah, sì, dei video ASMR, dei video ASMR, li farò appena è possibile, forse, tra, vederti, o sabato, vediamo, se ho un po' più di organizzazione, per quanto riguarda i video ASMR, quelli, vabbè, avete capito quali sono i video ASMR, perché è nuovo del canale, se volete ve lo spiego, ma, dubito che non lo sappiate, i video ASMR, sono quelli, sottovoce, che si parla sottovoce, quelli sussurrati, quelli sussurrati, sono tipo videotapping, scratching, scratching, come che lo si chiama? vabbè, che si prende, un tipo, un astuccio, un oggetto, un qualsiasi oggetto, e voi lo, armeggiate, mi si può dire, lo tastate, fate del rumore un po', che, al vostro cervello, vanno un po', sentire un po', di formicolio, ecco qua, date la, il coso di un formicolio, al vostro cervello, e vi, non so come spiegarmi, spero di scegliere, bene, però, quello è che vi da, il senso di, formicolio, al vostro cervello, quando voi, ascoltate l'smr, è brutto da dire, ma è la verità, ragazze, questa cosa qui, dell'smr, fa tipo, faccio un esempio, tanto lo sapete, come sono i video, di smr, impossibile, che non sapete, quali sono, allora, come state ragazze, spero tutto bene, questo è il mio, solito saluto di smr, oltre a quella versione, normale, e, oggi, ci rilassiamo, un po', un po', con me, e, nulla, come avete passato la giornata, rilassati un po', con me, ecco, questo, è, un, tono, smr, e nulla, ragazze, e, tanto, per dirvi a voi, che, asmr ce ne sono tanti, ci sono, asmr, tipo, i ruoli dell'estitista, i ruoli dell'estitista, che fanno ruoli asmr, ruoli, tipo, la psicologa, asmr, ruoli dentista, ce ne sono, di tanti tipi, di asmr, ruoli, dell'amica, accanto, della porta accanto, scusate, non so, non riuscivo a parlare, vabbè, ce ne sono tanti tipi di asmr, e, poi, tapping, tutte quelle robe lì, insomma, ce ne sono, di ogni tipo, i susurri, anche, i susurri all'orecchio, ma, ragazzi, è pieno, zeppo, su youtube, di asmr, e io adoro gli asmr, all'inizio, mi facevano un po' strano, l'smr, per dire la verità, non mi facevano impazzire gli asmr, ma adesso, mi, mi sono ridotta, al punto tale, che gli asmr, sono un vero, e proprio, tocca sana, almeno, per la mia psiche, mi fanno stare, non dico, bene, ultra bene, quindi, gli asmr, sono perfetti, per me, a parte che io sono un po' strana, un po' curiosa, per dire che sono un po' mattacchiona, quindi, gli asmr, per me, toccano la grande, la mia psiche, cioè, voglio dire, mi fanno stare bene, da, o via, e quindi, ecco perché l'smr, a me piace, perché, appena sento, il tocco, di un, timbro di voce, tipo, ecco qua, questo rumore qua, a me, mi piace, non so perché, a me piace, questo tipo di, rumore strano, tipo, ecco, anche questo, è bellissimo, non so, adesso, non ho nessun oggetto in mano, ma, l'smr, non ce ne vedo, come l'smr, non so, i video, sono troppo belli, comunque nulla, a parte questo, abbiamo chiacchierato, del più o del meno, con la mia amica, in macchina, stamattina, e, vabbè, sto chiedendo il discorso, dell'smr, perché, ne ho parlato abbastanza, perché, vuole sapere, gli smr sono belli, o via, c'è poco da, da fuggire, e così, e, poi, stavo dicendo, con la mia amica, mi ho parlato di tutto, anche di youtube, di come sta andando, su youtube, la situation, e, molti dicono, ma è troppo tardi, per entrare su youtube, a fare video su youtube, no, no ragazze, non è tardi per niente, dalle signore vecchie, alle signore giovani, di tutte, di più, non voglio parlare male, di signore vecchie, però per dire, se non c'è un'età, per non entrare su youtube, può entrare su youtube, sia il professore, sia, che ne so, il prete, sia, di tutti, anche il papa, c'è qua su youtube, che lo sappia, di tutti, tutti, possono far parte, di youtube ragazze, pensate un po', favij, che una volta, non sapevo, chi fosse, quando la prima volta, sono entrata su youtube, per ascoltare, la buona musica, un tipo, tipo, Lorenzo, favij, era già qui, su youtube, quindi anche videogames, ah vabbè, lui è più grande videogames, di tutta la storia di youtube, favij, cicciogamer, tutti gli altri, poi qui c'è, cane secco, un po' si chiama, un certo youtuber, non vorrei dire una bagianata, adesso non mi linciate, perché, come ho chiamato, quello youtuber, c'è un certo youtuber, che ogni tanto vado a guardare, poi c'è Gaia Gillo Viscardi, cioè non erro, sì, poi coloria fair, e vabbè, la mia youtuber preferita, si sa chi è, è Cleo Makeup, e Cleo Makeup, io adoro Cleo Makeup, è troppo brava, e poi, che altro c'è? Ce ne sono tante ragazzi, che vuoi che le ti mi dica? E basta così, già, cos'altro c'è? Che vuoi dire? Ah vabbè, abbiamo parlato un po' dell'andamento, di come procede su YouTube, e poi, insomma, abbiamo parlato che mi devo fare anche una bella ceretta, questo è scontato, però, è la verità, tra un po' mi devo mandare da l'estetista, a fare la ceretta, ma, vabbè, lo stesso, e forse, in questi giorni, andrò anche un giro un po' per Palau, e vi ci porto, con me, a fare questo bel ento giro di Palau, cioè, vi passate una bella giornata, a mia compagnia, mentre io faccio questo video vlog, non lo so, ripeto, non so, se, registrerò su YouTube, un vlog, di tutta la mia giornata, dall'inizio della colazione, fino all'ora di cena, vediamo, non ne ho idea, perché, io dico sempre una cosa, però, non so, se riesco a mantenerla, ecco perché, preferisco, stare lì, a organizzarmi, prima di dire una cosa, prima di fare una cosa, di, come si può dire, di promettervi, che riuscirò, a mantenere, le promesse del video vlog, perché vedo, che tutte fanno video vlog, e riescono a mantenere, le promesse, di portare in compagnia, le altre, che le seguono, le altre YouTuber, che seguono, che si fanno seguire, insomma, gli iscritti, però, bisogna vedere, se riesco a portare, altri contenuti, qua su YouTube, tipo, video vlog, video motivazionali, come quelli, clan with me, cioè, sarebbero, video di pulizia motivazionali, le faccende domestiche, to, quelli, oppure, che ne so, video di, come si chiamano, a mangiare, a fare McBank, ma io mi vergogno, come una, come una polla, andare dal McBank, a mangiare, e a fare il video lì, no, piuttosto, vado al, al fast food, di Orbe, non lo so di dove, mi prendo, mi prendo, il hamburger, cioè, il palino, il palinozzo, con dentro il hamburger, e, lì, mi ho portato a casa, perché, oh, ci faccio il video in macchina, che cacchio ne so, ragazzi, vediamo un po', come posso realizzarmi, perché è un bel muc, che me lo voglio fare, con il hamburger, almeno che non me lo faccia a casa, se lo faccia a casa, mi faccerò, mi faccerò, come se farò il video, mac bang, ragazzi, non soltanto, al top oggi, ho fatto la doccia, ho fatto la palestra, sono stata in palestra, ho fatto un giro a lungo palau, ma poco, di qualche minuto, intorno a casa, diciamo, non ho girato molto, poi, appunto, vi ripetisco, sono andata in palestra, mi hanno andato a fare la spesa, poi, che ne so, mi ho fatto due o tre ducce, credo, non mi ricordo, non lo ho contato, perché c'è un caldo schifoso, ragazzi, veramente, c'è troppo caldo, quanti gradi sono, non lo so, non ne ho idea, e sinceramente, non lo vogliono anche sapere, perché sento come se, mi stessero picchiando la testa, il caldo che c'è, l'ho detto anche in palestra, quando ero con la mia amica, ho detto, ma, qua c'è un caldo fotonico, dico, come dice Federico, fashion style, c'è molto caldo, sì sì, quindi, boh, ah, pièce ragazze, quando vedete sto video, penso che, dopo ne farò uno, di prodotti miei preferiti, non vedrete makeup, perché mi sto truccando ben poco, quasi zero, anzi, per dire la verità, non mi sto truccando poco più, a meno che, non mi ridefinisco, le sopracciglia, con la matita, e la, e il mascara, per sopracciglia, perché adesso, sono proprio sfatta, ragazze, sfatta, nel vero senso, da parola che, come si dice, dove sono truccata, già si vede, anche dal video, che non sono truccata, comunque, non fa niente, non importa, e sinceramente, non è che non mi interessa, però, quando con questo caldo, chi c'ha voglia di truccarsi, un po' di mascara, sulle ciglia, al massimo, se vuole andare, vuole essere un po' più carina, per uscire di casa, un burro cacao, un lucido labbra, quel che è, e, ridefinizione delle sopracciglia, blush, no, perché, blush, almeno che, non vuoi diventare Heidi, vabbè, non comment, oppure, un po' di bronzer, terra, sulle gote, effetto baciata, al sole, tutto lì, ma il resto, chi se ne frega, ragazze, vivete l'estate, godetevi l'estate, perché, finché c'è l'estate, va bene, ma il resto, tutto, come diceva, il grande, Franco Califano, è noia, ok, il resto, è noia, ragazze, godiamoci l'estate, guardiamo, guardiamo al mare, a pronunziamoci come luce Arturine, oppure, non lo so, fatevi video su YouTube, andando al mare, queste cose così, e basta, bene, secondo quante minuti sono arrivata, 18 minuti di video, va bene, lo taglio, di sicuro, qualche cosa non si capirà, ma lo taglio, e se no, vediamo, come posso fare, a presto, ragazze, ciao, un bacio, e ovviamente, supportatemi, con un like, un pollicione, all'insù, un commento, e attivate la campanella, qualora voi, decidiate, di iscrivervi, al mio canale YouTube, ciao, a presto, ragazze, e se sentite ancora, scricchiolare, ragazze, non riesco a stare ferme, ragazze, che voglio dire, come sono in palestra, sono anche in casa, con che cose devo pur fare, nuovermi, eccetera, va bene, ciao, buona giornata, e buon proseguimento di giornata, ciao, va bene, ciao, vi lascio, giuro.